Ritorna alla politica attiva dopo una lunga parentesi per vicende che nel loro piccolo hanno fatto anche storia. La recente nomina di Antonio Lattanzi, ex assessore al Comune di Martinsicuro ha destato tra virgolette anche un po' di scalpore anche per l'importanza del personaggio nominato di recente coordinatore provinciale di noi con Salvini ovviamente nuove sfide sul territorio in vista di appuntamenti importanti soprattutto quelli legati alle amministrative del 2016 in alcune realtà territoriali ma non solo parliamo di politica e anche di territorio nel 45 giri di oggi un benvenuto al nostro ospite, l'ho anticipato Antonio Lattanzi Buongiorno, grazie a voi per il vostro invito e complimenti per le vostre trasmissioni L'ho detto in premessa, il ritorno in politica, politica attiva di recente c'è stata la nomina coordinatore provinciale di noi con Salvini la notizia è che Lattanzi torna a fare politica attiva Sì, sono stato nominato coordinatore per la provincia di Teramo del movimento noi per Salvini una cosa che mi fa molto onore, una cosa che mi è stata chiesta dal fiduciario attualmente regge il movimento noi per Salvini in Abruzzo il senatore Paolo Arrigoni, una persona veramente squisita una persona che sta dando veramente un cambio di marcia alla fase iniziale di questo movimento da quando Salvini ha deciso di nominarlo fiduciario si è creato un gruppo veramente eccezionale quindi ho conosciuto questo senatore ne ho subito percepito le qualità sia umane che politiche e non potevo che dare il mio assenso a questa nomina perché lavorare con lui vuol dire lavorare bene Come mai la scelta di aderire a questo movimento? Ho scelto di aderire a questo movimento perché Salvini e il suo movimento incarnano un po' quelli che sono i miei ideali, i miei valori battaglie a fianco dei cittadini per cercare di risolvere i problemi dei cittadini poche chiacchiere anche se purtroppo quando sei all'opposizione puoi soltanto gridare ma oltre alle parole ci sono anche delle proposte veramente interessanti del nostro leader Matteo Salvini che riguarda l'economia che riguarda i problemi sociali dell'immigrazione poi se vuoi ne parleremo e questi temi a me stanno a cuore e li ho sentiti miei quindi mi sono avvicinato c'è stato un contatto con un vecchio amico dei tempi di Alleanza Nazionale Piero Fioretti che mi ha invitato a qualche riunione ho conosciuto un'altra bellissima persona parlo di Giuseppe Bellachioma che è il responsabile organizzativo per l'Abruzzo per quanto riguarda noi per Salvini un'altra persona che sta lavorando veramente a 360 gradi per radicare questo movimento sul territorio ho visto che si sta creando un gruppo che ha voglia di lavorare e allora visto che i valori, gli ideali sono quelli le persone sono quelle giuste e quindi sono entrato Lei ha ricordato i suoi precedenti insomma leader storico di Alleanza Nazionale in questo momento il movimento di Salvini è la vera destra in Italia Beh, io quando dico che incarna un po' i miei ideali, i miei valori diciamo che è quello che cerco di rappresentare c'è stato un momento in cui i fini dopo lo strappo con Berlusconi sembrava che volesse far nascere una nuova destra una destra moderna ma con dei valori chiari dei valori veramente rispettabili poi purtroppo si è arenato delle sabbie mobili che non so per quale motivo ci è finito e purtroppo fini scusate il mio gioco di parole è finito da un punto di vista politico Molti, e la interrompo molti che venivano dall'esperienza di Alleanza Nazionale parlano in termini molto critici di Gianfranco Fini forse ha perso l'occasione di diventare forse il leader di quell'area politica lì il personaggio, lo statista magari lo aveva studiato per diventare statista poi cosa è mancato? Guarda, io ho fatto tutta la mia trafila politica di Traffini dal Movimento Sociale, Allanza Nazionale poi entrare al PDL, poi uscito non sempre condividendo certe scelte però voglio dire, chi sta in politica, chi sta in un partito non è che vede le proprie idee sempre messe in atto dal partito a volte ci sono delle scelte che non le condividi ma le devi fare tue per forza perché non puoi pretendere che ogni tua idea sia quella che poi il partito porta avanti l'ho seguito, in alcuni momenti sono stato anche un pochino critico però ci sta in politica e poi quando ha creato il FLEI pensavo veramente volesse fare quel passo che avrebbe dovuto fare purtroppo lì secondo me avrebbe dovuto dimettersi da Presidente della Camera e fare politica creare un contenitore di persone che hanno una certa idea politica che vogliono dare una mano che hanno delle idee di destra, ma una destra moderna non ancorata ai dettaggi del passato poi lì si è fermato si è fermato, secondo me ha fatto dei gravissimi errori lei mi diceva che è criticato io vado oltre io ultimamente sono stato qui in provincia di Terra ma non sono andato perché probabilmente lo avrei trattato molto male perché ci ha illusi e devo dire ci ha preso in giro negli ultimi tempi quindi io poi non sono uno che le manda a dire le cose io sono uno che le dice direttamente ho preferito evitare di andare lì a Teramo per non evitare una situazione antipatica però sono molto più che critico nei suoi confronti parliamo di temi faceva un accenno su quelle che sono alcune dinamiche di Salvini relativamente a livello nazionale parliamo di economia, di immigrazione, di sicurezza sono temi di grande attualità viste ovviamente da una visione diversa che è quella della Lega e di Salvini sì, colgo l'occasione per annunciare che domenica 17 nei comuni dove sopra i 15 mila abitanti dove si entra il voto in primavera parlo di Vasto, Francavilla, Ranciano e Roseto degli Abruzzi noi dalle 10 alle 19 metteremo dei gazebo e tratteremo prettamente tre argomenti due di carattere nazionale e due di carattere regionale parleremo della legge Fornero più che legge io la chiamo punizione perché le leggi di solito si fanno per migliorare la situazione dei cittadini quella è una legge che ha penalizzato tutti ha massacrato i pensionati ha creato il problema esodati e poi non so se tutti lo sanno dal primo gennaio le donne che andranno in pensione andranno in pensione 22 mesi dopo quello che era previsto nella vecchia legge insomma è una legge che va abolita parleremo anche dell'immigrazione perché è un problema molto sentito tra l'altro sappiamo dai dati che sta tirando fuori questo governo nel 2015 gli immigrati sono costati 3 miliardi e 300 milioni nel 2016 costeranno 4 miliardi si parla di abolire il reato di clandestinità poi adesso è stato rinviato dal governo io dico che questi sono un po' folli perché insomma diminuire un pochino la portata di quella legge passare da un reato penale a un reato amministrativo praticamente il clandestino prenderebbe una multa che non pagherebbe mai e quindi questo consentirebbe ancora più una emigrazione di massa nel nostro paese anche perché sul discorso degli immigrati è bene fare un inciso sia per quelli che sono come me persone di destra ma anche per quanto riguarda ciò che dice Salvini molti dicono che è razzista è una grandissima bugia perché bisogna distinguere le cose noi non siamo per il fatto che gli immigrati non debbano venire vengono qui benissimo noi dobbiamo sapere dove abitano dobbiamo sapere che lavoro fanno come si sostendono dobbiamo sapere dove rintracciarli ma prima di tutto quando vengono qui da noi devono rispettare noi, i nostri figli la nostra terra, la nostra religione la nostra cultura una volta che loro vengono con questo concetto cioè di rispetto nei nostri confronti noi li accogliamo a braccia aperte ma se vengono qui non sappiamo dove abitano che quindi non li può rintracciare non sappiamo come guadagnano i soldi per sopravvivere vogliono togliere i crocifissi vogliono abolire i festeggiamenti di Natale maltrattano i nostri figli, le nostre donne cioè questi qui con queste idee non debbono assolutamente venire ma non si tratta di essere razzista magari se uno accetta quello è razzista sì, ma nei confronti degli italiani perché a chi mi dice togliamo i crocifissi o non festeggiamo il Natale chiederei ma se andate nei loro paesi e provate ad entrare in una moschea con le scarpe o provate a dire togliete i vostri simboli i simboli della vostra religione quelli ce l'hanno prima analizzato poi magari tagliano la gola allora è bene distinguere il razzismo dal fatto che vogliamo tutelare e difendere i nostri concittadini sia chiaro poi per quanto riguarda i profughi quelle povere persone che scappano alla guerra beh quelli vanno individuati se veramente sono persone che scappano alla guerra vanno aiutati ma non si può dire apriamo a tutti un altro tema molto prego finisco con il terzo tema che tratteremo ai gazebo di domenica prossima è quello che riguarda l'Abruzzo l'Abruzzo nei primi nove mesi del 2015 parlo del lavoro l'occupazione ha perso 35.000 posti di lavoro 35.000 posti io penso che D'Alfonso e il suo governo regionale devono un attimino fermarsi sedersi e dire ragazzi quello che dobbiamo fare quindi noi tratteremo questi altri argomenti questi sono i principali nei nostri gazebo di domenica parleremo con la gente ma saremo molto trasparenti saremo critici sì ma con dati alla mano non saremo lì a blaterare o a gridare contro questo contro quel altro senza condizioni di causa perché che la legge Fornero sia una punizione non è che me ne invento io che il discorso di immigrazione che sta portando avanti questo governo è uno scandalo che poi tra l'altro sappiamo anche che intorno a questo problema dell'immigrazione c'è un grosso business cooperativa associazioni che in qualche modo prendono i soldi e dovrebbero poi distribuirle per vitto alloggio e quant'altro queste persone e poi non si sa una parte una grande parte di quei soldi va a finire certo ci sono delle inchieste a livello nazionale insomma che dimostrano questo aspetto per chiudere il cerchio c'è anche il tema legato alla sicurezza molto anche nel nostro territorio in questo momento è una delle paure maggiori da parte dei cittadini sì quando infatti parlavo di non essere razzisti e di volere integrare le persone che vengono qui per lavorare per vivere per avere un alloggio chiaro perché se qualcuno deve cercare questi immigrati per un qualsiasi motivo deve sapere dove stanno quindi se vengono così e vengono rispettando come dicevo prima noi la nostra terra le nostre famiglie le nostre regioni le nostre culture noi siamo pronti però la maggior parte di queste persone che vengono nella nostra zona è Martinsicuro un po' l'emblema per quanto riguarda la nostra provincia la nostra regione perché la percentuale di immigrati che c'è è altissima e Martinsicuro lo sente questo problema la maggior parte di queste persone non si sa da dove viene non si sa cosa fa non si sa dov'è e poi scopriamo magari che la micro criminalità e non solo la micro criminalità ma anche la criminalità a un certo livello coinvolge persone che vengono da oltre l'Europa oltre i confini europei che non si sa però come sono venuti e ne dove stanno quindi io dico cominciamo a creare i presupposti per integrare per dare una mano a queste persone ma devono essere persone degne il resto scusami il resto dobbiamo mandare fuori a calci con quali motivazioni nasce questa nuova avventura politica piccoli accenni ne sono stati fatti ma insomma ci sono degli obiettivi focalizzati il mio obiettivo è quello di dare personalmente di dare il mio piccolo modesto contributo a radicare sul territorio questo movimento con queste aspettative le lotte le battaglie a fianco dei cittadini perché oggi il cittadino è tartassato sotto ogni punto di vista da un punto di vista economico da un punto di vista sociale ha dei problemi da un punto di vista occupazionale allora noi vogliamo se non riusciamo a cambiare cose però vogliamo dare la nostra vicinanza faccio un esempio c'è stato qualche giorno fa un paio di settimane fa a Pizzoli c'è stata una manifestazione di noi per Salvini davanti alla sede di Banca Etruria perché lì moltissimi la maggior parte dei cittadini dei residenti di quel paese ha perso soldi noi siamo andati lì ma il bello è stato innanzitutto al nostro interno nel senso che siamo andati spontaneamente tutti siamo andati a Martinsicuro provincia di Termo tante persone provincia di Chieti provincia dell'Agro provincia di Pescara eravamo tutti lì questo significa due cose uno quella meno importante per i cittadini che siamo un gruppo unito sta nascendo un gruppo bellissimo in regione Abruzzo di noi per Salvini cioè ci rimbocchiamo le maniche e partiamo nonostante si lavora quindi si lascia il lavoro si lascia la famiglia però quando dobbiamo fare un'iniziativa portiamo un'iniziativa siamo pronti e poi siamo andati lì non abbiamo detto ai cittadini ai poveri truffati noi siamo qui per risolvere il vostro problema no noi abbiamo detto siamo qui per stare a fianco a voi e questo a volte vale più di qualche altro tipo di iniziativa che viene fatta perché questa gente il brutto di questa gente oltre a aver perso i soldi è di ritrovarsi da sola e noi vogliamo stare vicino ai cittadini che hanno dei problemi poi quando siamo in grado e questo lo faremo a 360 gradi di risolvere noi il problema lo risolveremo quando non siamo in grado di farlo comunque saremo a fianco a loro a manifestare a gridare ecco a sollecitare poi chi governa in modo che risolva i problemi di questa porra gente tra gli obiettivi nell'immediato ovviamente c'è quello di prepararsi all'amministrativa del 2016 si faceva riferimento prima ad un comune molto importante nel quale si va al voto a Roseto in Val Vibrata c'è anche Colonnella questo insomma in questo 2016 gli obiettivi sono anche quello di essere presenti alle amministrative sì chiaramente noi vogliamo essere presenti nonostante il tempo a disposizione è quello che è guardiamo tutti i comuni non è che ne tralasciamo qualcuno è chiaro quello più importante è Roseto c'è stato già un primo incontro al quale non ho partecipato io perché non ero stato nominato ancora coordinatore quindi non avevo titolo per poterle stare in un incontro ce ne sarà a breve un altro dove ci sarò anch'io e dove ribadiremo quella che è la nostra idea quella di noi siamo alleati con il centro-destra dappertutto è chiaro che però devono essersi i presupposti noi ribadiremo al sindaco Pavone e tutta la coalizione che la nostra intenzione è quella di partecipare alle elezioni con la nostra lista in appoggio al sindaco Pavone ma prima deve passare attraverso un accordo sottoscritto che riguardano alcuni punti fondamentali per esempio il programma perché il programma per noi in ogni paese è fondamentale e poi la scelta delle persone chiaramente noi quello che rivendichiamo è la nostra dignità cioè noi partecipiamo vogliamo la nostra dignità vogliamo partecipare alla stesura del programma insomma vogliamo dire la nostra ma per il bene del paese per migliorare ancora di più le cose qualora in qualche comune parlo in generale non si dovesse raggiungere questo accordo noi saremo pronti a fare una lista nostra con il nostro candidato sindaco anche perché insomma oltre alla sua nomina il senatore Rigone ha provveduto insomma a nominare anche i coordinatori delle altre tre province abruzzese insomma sì sì lui ha nominato in blocco tutti e quattro i coordinatori perché bisogna lui vuole che si lavori vede il senatore Rigone viene dall'Alta Italia non è di questa zona uno potrebbe anche pensare che a lui non interessa l'Abruzzo scusate magari si potrebbe dire Salvini l'ha messo là dice vedi un po' che puoi fare non è assolutamente vero il senatore Rigone è una persona che tiene tantissimo a questa regione ma più che altro tiene a svolgere quel compito che gli è stato assegnato cioè quello di radicare organizzare il partito qui in Abruzzo quindi lui viene spesso qui ci tampina telefonicamente anche tramite questi nuovi mezzi che camminano sulla rete cioè una persona che dal mattino tu lo senti alle otto fino a mezzanotte l'una sta lì lui ci sprona ci fa stare sempre molto attivi è una persona che vuole i risultati che chiede i risultati ma è una persona che comunque rispetta il lavoro degli altri è una persona veramente in gamba lo posso lo dico apertamente perché poi io non sono uno che ha i piedi sulla lingua se c'è qualcosa che a me non va bene sono il primo a dirlo quindi ha organizzato così il partito adesso ci sta dando le sue indicazioni e noi stiamo facendo il lavoro che ci compete d'altronde sempre in sintonia con lui con il responsabile dell'organizzazione che è appunto Giuseppe Bellachioma e poi adesso sotto le elezioni c'è il responsabile regionale per le elezioni che è Piero Fioretti Piero Fioretti ovviamente ci fermiamo un attimo diamo la linea alla regia per la pubblicità e ci ritroviamo tra qualche istante seconda parte di 45 giri con il nostro ospite Antonio Lattanzi si parlava ovviamente di attività organizzative in vista delle amministrative il titolo di questo spazio è il ritorno in politica direi insomma di fare un piccolo passo indietro insomma politica è stata sempre fatta ma in maniera attiva si torna a farla adesso dopo una lunga parentesi figlia insomma di una questione di una lunga vicenda giudiziaria insomma che vale la pena insomma anche a grosse linee di essere ricordata sì io ho sospeso la mia attività politica diciamo quella attiva nel 2002 quando purtroppo sono stato vittima di un gravissimo errore giudiziario e che sia stato vittima di un errore giudiziario non lo dico io questo sarebbe facile dirlo per una persona che è stata indagata che qui nessuno è colpevole ma lo hanno detto le uniche persone che hanno titolo hanno potere di dire questo cioè i magistrati quindi ho avuto questa vicenda giudiziale che mi ha visto assolto in tutti i gradi di giudizio e voglio ricordare anche che nell'ultimo che era il giudizio ho rifiutato anche l'avvenuta prescrizione lo hanno detto i giugi che mi hanno riconosciuto una cifra per una riparazione per l'ingiusta detenzione che in Italia viene riconosciuto a pochi salvo quelle persone dove il loro comportamento è stato talmente trasparente specchiato limpido ai quali quindi non si può dire no e io mi fermai nella politica per due motivi semplici uno per rispetto della magistratura perché nonostante fossi stato vittima di un grave errore io ho sempre creduto nella giustizia e nella magistratura perché se in una comunità c'è una persona che sbaglia o una persona che può accanirsi e confondi di altri non è detto che tutta la comunità sia come questa persona quindi ho avuto sempre fiducia e quella fiducia è stata ripagata poi dal risultato finale quindi per rispetto della magistratura mi sono tirato fuori la politica perché io volevo che la magistratura mi indagassi e magari emettesse poi i propri giudizi finali libero a scevra da qualsiasi tipo di coinvolgimento personale mio con altre vicende politiche e poi rispetto ai cittadini io non volevo stare in politica e magari candidarmi perché l'avrei potuto fare sempre cercando di votare le persone quando ancora io non avevo chiarito ciò che mi era stato detto di chiarire finito questo calvario diciamo così anche su sollecitazione di tanti amici ho deciso di tornare in politica e questo dovrebbero fare un po' tutti i politici che hanno problemi come il mio recente è l'esempio di quarto dove il sindaco pare che non ne vuole sapere di dimettersi io sono stato sempre un garantista prima ancora che mi accadesse quella mia triste vicenda e lo sono ancora di più oggi quindi non mi permetto di giudicare assolutamente però dico che quando un amministratore il suo malgrado si trova coinvolto in certe vicende fa bene a fare un passo indietro perché la propria vicenda poi giudiziaria deve avere un percorso che deve appunto uscire fuori deve tenere fuori poi la politica l'amministratore tutto perché poi può essere fraintesa può esserci qualche situazione che può offuscare ancora di più la propria immagine e il corso poi della giustizia mi meraviglia non vedere i vari di Maio di Battista che con le loro forche poi quando si trattava di personaggi di altri partiti erano lì subito a fare i giustizialisti ed è sbagliato mentre oggi li ho visti in televisione di recente soltanto dire fermi noi non sapevamo nulla non dite che noi sapevamo però nei confronti di un membro del loro movimento non hanno detto nulla ma questo era soltanto per fare un piccolo inciso quindi ritengo come risponde una domanda che una persona che abbia sia costretta a fare un percorso giudiziario su malgrado debba tirarsi fuori dalla politica poi magari rientrare rientrare questo potrebbe essere un percorso insomma parliamo anche un po' di Martinsicuro la cittadina insomma dove lei vive ricordiamo insomma che la vicenda giudiziaria iniziò nel 2002 quando insomma lei era assessore ai lavori pubblici al comune di Martinsicuro insomma quel percorso è stato stoppato potrebbe ricominciare ma non ci deve mai dire mai devo dire che non ho mai abbandonato l'idea di poter tornare a fare l'amministratore a Martinsicuro è chiaro che c'è bisogno di trovare i presupposti giusti che si devono creare i presupposti giusti però non ho mai detto non tornerò mai in politica o non tornerò a provare a fare l'amministratore a Martinsicuro perché al di là di quella vicenda che può aver diviso anche i cittadini mi rendo conto che può aver diviso la coscienza delle persone l'idea delle persone ma al di là di quello nessuno mi può criticare il mio modo di fare politica perché io sono stato sempre uno che ha parlato con tutti i cittadini ha cercato di risolvere i problemi di tutti qualche volta riuscendoci altre volte no ma sicuramente ci ho messo sempre la mia buona volontà per cercare di rendere il cittadino meglio farlo stare meglio sotto ogni punto di vista quindi non vedo il motivo per cui non dovrei magari pensare di tornare un giorno a fare l'amministratore martin sicuro che fase sta vivendo martin sicuro dal suo osservatorio io oltre alla mia idea che può essere anche falsata da un punto di vista magari che va verso una sola parte ma sentendo la gente insomma conferma quello che penso io una fase di stasi una fase di stasi di appiattimento che da troppi anni è stata tagliando nel paese martin sicuro martin sicuro è un paese che merita di più molto di più di quello che ha sotto ogni punto di vista dal punto di vista delle strutture dal punto di vista dell'incentivazione del turismo dal punto di vista della vivibilità martin sicuro non ha purtroppo i risultati non ottiene risultati per quello che sono le sue potenzialità quindi ci vuole un'amministrazione che riparta faccia ripartire il nostro paese che purtroppo sta morendo è una riflessione che faccio spesso quando poi mi capita di interloquire con ospiti di martin sicuro che dal 1993 in poi anni in cui è nata ed è esordito tra virgolette questa legge elettorale con l'elezione diretta del sindaco mai nessuna amministrazione si è cioè ricandidandosi ha avuto il secondo mandato questo può essere anche una chiave di lettura beh indubbiamente lo è anche se nel 93 dopo nel 97 dopo il governo di sindaco Caputi la sinistra si è divisa presentò due liste quindi lì il compito del sindaco Scentra era molto più arduo e infatti ha vinto la lista che mi ha visto dove ero candidato anch'io abbiamo vinto per soltanto 16 voti quindi questo la dice lunga dal 97 al 2002 c'è stata l'amministrazione centrodestra e non poteva riconfermarsi per le note vicende giudiziarie di cui parlavamo prima è chiaro che quella quell'amministrazione che si riproponeva poi nel 2002 partiva con un grande handicap purtroppo erano ancora calde le situazioni che c'erano state da un punto di vista giudiziario per non condizionare il voto l'esito elettorale che poi insomma il sindaco Micozzi si ripropose in quella tornata elettorale ci sono anche dei problemi che investono nel territorio uno di questi è la vicenda VECO insomma sono giorni importanti proprio ieri c'è stata una conferenza dei servizi a Pescara guardiamoci questo servizio che fa il punto della situazione alla luce dell'ultimo incontro poi lo commentiamo assieme uno spiraglio accompagnato da un cauto ottimismo utile per far ripartire l'attività produttiva alla VECO di Martinsicuro è stata una giornata lunga estenuante quella di ieri nel contesto della vicenda VECO la storica fonderia di Martinsicuro che rischia la chiusura a Pescara negli uffici della regione la conferenza dei servizi è durata quasi dieci ore un confronto dettagliato sulla vicenda tra i vari attori interessati istituzionali e tecnici oltre che alla proprietà molto tecnico alcuni nel quale è stato individuato un percorso finalizzato a rimuovere i vari ostacoli regione settore qualità dell'area arte e proprietà della fonderia hanno condiviso un percorso con relative tempistiche per adempiere ad una serie di prescrizioni l'obiettivo è quello di ottenere l'autorizzazione AIA e tracciare un sentiero utile per consentire la ripresa dell'attività nel medio periodo da parte dei lavoratori delle sigle sindacali affiora una dosi di ottimismo anche se poi tutto il percorso va definito sulla scorta di quanto emerso commenta Giampiero Dozzi della Fium CGL abbiamo concordato un incontro con l'azienda da tenersi quanto prima per una valutazione sulla reale consistenza degli interventi e le relative tempistiche anche per le ricadute immediate sul futuro del personale attualmente infatti sono una decina i lavoratori in mobilità ma se i tempi dovessero allungarsi ulteriormente la procedura interesserebbe tutto il personale cercheremo di gestire il problema senza prevedere licenziamenti per un certo numero di giorni continua Dozzi certo se i tempi dovessero allungarsi ad un mese o in più si andrà al licenziamento e alla successiva riassunzione se ce ne saranno le condizioni a Pescara rappresenta anche il sindaco Paolo Camaioni accompagnato dal vice sindaco con delega all'urbanistica Deborah Vallese e dal consigliere delegato all'ambiente Silvano Lupacchini il comune di Martinsicuro sottolinea Camaioni ha ribadito la sua disponibilità alla soluzione della vicenda in tempi brevi compatibilmente con le norme di legge tenendo conto soprattutto della portata occupazionale della vicenda e del rispetto dell'ambiente auspiciamo soluzioni rapide e condivise nell'interesse di tutti manifestando sin da ora un cauto ottimismo per la chiusura positiva della conferenza dei servizi Rattanzi che idea si è fatto sulla vicenda un problema insomma con il quale Martinsicuro convive da sempre anche se adesso ci troviamo in una situazione in cui il futuro dell'azienda è veramente appeso ad un filo la mia è un'idea non dico drammatica ma un'idea molto molto brutta di questa vicenda perché da una parte c'è la volontà di salvaguardare dei posti di lavoro delle famiglie che vivono con gli stipendi dei propri congiunti che lavorano lì dall'altra c'è la salute dei cittadini che non deve essere messa in secondo piano è chiaro che lì va trovata una soluzione che non scontenti nessuno delle due parti perché come dicevo non si può far chiudere una fabbrica storica che dà del lavoro a tante famiglie ma non si può neanche continuare a far respirare alle persone materiale sostanze che non fanno bene per la salute quindi ci vuole uno sforzo da tutte le parti a qualsiasi livello affinché l'azienda se ha la volontà veramente si metta a norma e vada avanti quindi non facciamo perdere posti di lavoro assolutamente e quindi io penso che debbano intervenire gli organi superiori al comune alla provincia alla regione anche io penso che anche il governo debba fare la sua parte da questo punto di vista fermo restando che come dicevo prima insomma non lasciamo in mezzo a stare 70 famiglie ma non continuiamo a far respirare materiale dannoso per la salute a chi abita in quella zona senza voler fare della dietrologia ma forse si è persa nel corso degli anni l'occasione di delocalizzarla quella attività se ne è parlato per anni anche oltre 20 anni fa poi è sempre mancato qualcosina ragionando con il senno di poi ovviamente adesso sembra la mia una considerazione abbastanza scontata banale forse non lo era in quel momento no non hai torta hai perfettamente ragione ma io ritengo che non si è persa l'occasione per delocalizzarla io penso che se c'è la volontà delle parti sia della proprietà che della parte politica è un discorso che si può riaffrontare io ricordo che qualche anno fa ai tempi dell'amministrazione Salvatore la stessa la proprietà aveva iniziato a discutere con l'amministrazione per una delocalizzazione dell'azienda poi se tutto si è allenato io se fossi guarda se fossi il sindaco mi metterei al lavoro per percorrere questa strada lavorerei alla cremente per farlo quindi farei riunioni molto intense molto ravvicinate non una riunione all'anno perché poi dice adesso continuiamo a campare e cercherei di trovare il modo perché la proprietà possa ottenere tutto ciò di cui ha bisogno per delocalizzarsi è chiaro che se la proprietà dice io porto l'azienda dall'altra parte quindi non metto in mezzo la strada 70 famiglie però qui dove adesso l'azienda voglio realizzare qualcosa di impossibile da poter concedere la direi siamo calmi però ci può ragionare è giusto sedersi confrontarsi e ognuno delle parti poi mette sul piatto della bilancia i propri diritti chiedendo comunque all'altro di fare i passi giusti i confronti non sono mai cosa sbagliata un altro tema cittadino che torna puntualmente a galla riguarda il cinema ambra qual è la sua idea su questo aspetto anche in questo settore nel corso degli anni sono stati spesi dei soldi anche del tempo visto che comunque l'immobile è ancora lì il rudere chiamiamolo questa sta diventando un po' perdonatemi la parola una barzelletta perché si parla di un di un rudere di uno stabile da tempo ma nessuno poi ha fatto qualcosa sono stati fatti dei progetti sono stati spesi dei soldi poi sono stati accantonati i progetti e comunque come diceva lei quello sta ancora lì io personalmente non posso addentrarmi più di tanto perché non ho il polso della situazione ma se fossi il sindaco cercherei di reperire se fosse possibile fondi magari pubblici per ristrutturarlo e tenerlo come struttura pubblica ma qualora questo non fosse possibile io cercherei un accordo con dei privati dove nell'accordo inserirei la possibilità che ci venga dato a noi amministrazione un locale dove poter appunto fare quelle rappresentazioni teatrali o comunque diciamo simili molto simili che può essere una manifestazione cinematografica comunque una sala che si possa prestare a più iniziative proprio del comune mentre poi il privato realizzerebbe e manterrebbe di sua proprietà gli altri vani che potrebbero essere locali adibiti a uffici attività commerciali insomma è inutile che noi facciamo come il cane che si morde la coda oggigiorno i fondi pubblici sono quasi a zero e se non si cerca con i privati di reperire i fondi non si va da nessuna parte quello della riqualificazione o dell'idea del cinema ambra insomma si lega in maniera evidente anche al discorso di piazza Piazza Cavour ricordiamo insomma piazza che fu ristrutturata quando insomma lei era assessore ai lavori pubblici poi sono altre idee altre questioni molti lamentano il fatto insomma che non sia più un punto di ritrovo qual è la sua idea che hanno ragione queste persone hanno perfettamente ragione perché quando fu approvato il progetto della piazza l'idea non era quella di realizzarla o di tenerla così io poi ho seguito i lavori fino a un certo punto poi per le note vicende non ho potuto più seguire i lavori quella piazza era stata prevista che rimanesse aperta al traffico con dei parcheggi con più panchine con più verde poi magari in quella situazione l'amministrazione ha perso un pochino la bussola il tecnico forse ha pensato di poter dare un'impronta diversa da quella iniziale è diventata quella che è diventata ma è chiaro che lì bisogna intervenire ma bisogna intervenire in modo più generale anche ricomprendendo il cinema perché io torno a dire a fare mia una proposta che sarà sempre mia cerchiamo di realizzare il campus scolastico un polo scolastico delocalizzandolo nella zona della caserma dei carabinieri alienando tutte le scuole del paese ad eccezione della scuola di piazza Cavour dove io lì prevederei il comune immaginiamoci la piazza con il comune lì davanti dove è stata la scuola ristrutturando anche il cinema e magari predisponendo dei parcheggi sotterranei sotto la piazza io penso che a quel punto la faremmo vivere veramente quella piazza uno potrebbe però dire ma un progetto faraonico un progetto un po' troppo importante sì ma se a questi progetti non ci si inizia mai a lavorare e mai verranno la fine questi progetti mai verranno la realizzazione certo non decollano certo da soli questi progetti però è chiaro che anche lì c'è bisogno di reperire fondi una parte pubblica una parte dei privati per realizzarla ma questa è una strada che bisogna cominciare a intraprendere questo sarebbe uno dei miei punti qualora un domani dovesse far parte di una coalizione a qualsiasi titolo uno dei punti fondamentali qui dobbiamo cominciare a pensare in grande non dobbiamo continuare a pensare alle piccole cose perché le piccole cose va bene vanno fatte ma pensiamo a qualcosa che possa qualificare e dare veramente un cambio di marcia al nostro paese perché altrimenti andiamo facendo sempre soluzioni di tampone una volta il cinema una volta la scuola una volta di là una volta così non siamo quasi in chiusura abbiamo parlato di quelli che sono gli obiettivi del suo movimento per quanto riguarda le amministrative della prossima primavera è pur vero che a Martinsicuro si torna al voto tra un anno nel 2017 il centrodestra che fase sta vivendo io penso che il centrodestra attualmente è una fase di attesa perché ancora non si entra nel vivo poi della campagna elettorale è chiaro immagino che tra poco tempo inizieranno i primi movimenti questo è innegabile è normale vediamo noi saremo pronti a discutere con i naturali alleati di un programma ecco che passa anche attraverso queste cose anche perché per la prima volta Martinsicuro andrà al voto col doppio turno insomma questa sarà la novità più importante sì bisogna prepararsi anche a questo nuovo modo di votare perché avendo superato i 15.000 abitanti si voterà con quest'altro loro sistema noi ci saremo comunque ci saremo cercando di fare una coalizione naturale ci saremo come siamo oggi a Roseto tutte le piazze come ci saremo il 30 di gennaio a Roseto dove ci sarà un bellissimo convegno che riguarda l'economia verrà il responsabile dell'economia di noi per Salvini Armando Armando Siri una persona squisita che è colui che ha scritto poi la proposta della flat tax la famosa flat tax che prevede che una tassazione del 15% a tutti tu immagina se tutti fossero costretti a pagare soltanto il 15% di tasse pagherebbero tutti e lo Stato incasserebbe di più purtroppo soltanto noi ci stiamo battendo per questo guarda io sono stato a una rappresentazione di un libro di Armando Siri ad Ascoli bellissimo libro dall'altra una persona veramente in gamba una persona che ha veramente le idee giuste poi dopo questa presentazione del libro sono state a prenderci un appetitivo e gli chiesi di questa fattax e lui in due ho preso un foglietto una penna me la spiegò in due parole è veramente bellissima è veramente semplice ma perché questi non lo fanno non lo so non lo so perché qua si parla di evasione tutti evasori tutti evasori però uno deve distinguere tra quello che evade perché poi i soldi tramite qualche riporta altrove e invece quelli che non riescono a pagare perché pagare non il 43% di tasse come dicono ma oltre il 60% in realtà di tasse chi non ce la fa che deve fare quindi ci sarà ripeto questo convegno a Roseto non c'è ripresa senza impresa si chiama dove si parlerà ai temi economici prima però il 23 saremo a Roma con una conferenza programmatica per Salvini tanto tanta calma c'è questo movimento in continuo movimento perché per crescere ma devo dire è un gruppo che veramente sta crescendo non ultimo i consiglieri comunali dell'Aquila hanno chiesto ufficialmente di fare ricorso al Tar per l'aumento del pedaggio autostradale questa è un'altra mannaia che arriva sulla testa dei cittadini abruzzesi quindi siamo in continua evoluzione continuo movimento un gruppo coeso e debbo dire che per la prima volta dopo tanto tempo vedo che c'è tanta voglia di fare di lavorare quindi non c'è invidia non c'è gelosia all'interno di questo movimento le gerarchie si rispettano da Salvini come diceva Salatore Arrigone tutte persone che lavorano ognuno ha il suo compito e non invade quello dell'altro c'è tanta sintonia quindi le prospettive sono veramente ottime grazie Antonio Laltanzi per la sua partecipazione grazie a voi per il vostro invito il nostro spazio finisce qui noi vi ringraziamo per l'attenzione 45G ritorna domani sempre alla solita ora grazie a tutti